Ciao, io sono Francesco Ciaccia, mi hanno chiesto gentilmente di fare una testimonianza per Alfio Bardolla e ho voluto accettare immediatamente perché ad Alfio sono profondamente grato per come veramente riuscito a cambiare la mia vita. Per tanti anni ho fatto il massaggiatore e diciamo la mia attività e anche la mia vita stava andando veramente bene, però mi mancava ancora quel guizzo per fare quel salto di qualità per raggiungere per esempio la libertà finanziaria. Sicché ho deciso di incominciare a fare dei corsi, quindi ho incominciato con RichNow, poi sono andato a fare il corso da lead a cliente e nell'arco di pochi mesi ho fatto anche il corso di risparmio fiscale. Ve li consiglio vivamente sicuramente anche gli altri che però dovrò ancora avere modo di incominciare a frequentarli, perché? Perché ti fa capire esattamente che c'è come una macchina che se viene messa in moto correttamente ti può permettere di guadagnare veramente moltissimo e in tempi relativamente brevi. Perché? Perché capisci esattamente qual è la formula che ti permette veramente di ottimizzare il numero di clienti che ti arrivano per esempio sul tuo sito web, nel tuo negozio o qualsiasi sia la tua attività e una volta che hai capito cos'è, qual è il tuo target per esempio e come farli arrivare, automaticamente da lì si trasformano buona parte in guadagni. Il corso invece di risparmio fiscale, che appunto ho voluto approfondire, è stato per mesi con la paura delle tasse, con quella che ti fanno capire che lo Stato italiano dicono Stato l'altro. In realtà quando sai esattamente come muoverti capisci che ci sono veramente un sacco di realtà che ti permettono di lavorare serenamente senza più avere paura delle tasse perché sai esattamente come muoverti. La serenità soprattutto è quella la cosa che ti permette veramente di dormire, andare a dormire la sera in maniera tale che quando vai anche a lavorare il giorno dopo tu ti senti sereno, non hai quella paura, oddio adesso, che ti impedisce di lavorare. Ok? Quindi questo è quello che vorrei dire. Ad oggi, avendo fatto quei due corsi lì, veramente posso dire che la mia vita, assieme anche a quella di mia moglie, è cambiata in meglio. Continuiamo ad aggiornarci continuamente perché siamo consapevoli che chi si ferma è perduto. Nel senso, se ti fermi e pensi di fare un corso e di cambiare la tua vita così, mi dispiace se sei fuori strada. Se invece continui ad aggiornarti, capire quella continua spinta come da dietro, forse è il famoso viadà di cui tante volte parla Alfio o andare verso, che ti permette allora veramente di dire ok, a me non vanno più bene le cose come stanno adesso, decido di cambiare, ho bisogno di copiare dei più grandi maestri e dalle persone che hanno avuto il risultato. Questo è quello che vi posso dire. Quindi io veramente sono molto soddisfatto e grato sia ad Alfio che a tutto il suo staff e sono veramente molto molto professionali e mi sento veramente di consigliarveli caldamente. Ok, con questo è tutto, da Francesco Ciaccia, grazie anche alla testimonianza che ha voluto portare in altri video mia moglie che è stata a cercare, la troverete. Quindi io con questo vi posso salutare e vi mando un grosso saluto da Francesco Ciaccia e che dire, grazie ancora di tutti i tuoi insegnamenti Alfio e ve li consiglio caldamente. Grazie a tutti.